Questa immagine rappresenta l'ideogramma Yang, composto anche questo da due radicali. Si tratta del secondo elemento della trasformazione Yin-Yang. A sinistra troviamo un radicale che quando è isolato significa collina. Rappresenta tre alberi piantati su una discesa ripida o tre terrazzamenti. Alcuni pensano che significhi manifestazione, per altri vuole suggerire la presenza simbolica del numero tre. A destra abbiamo in alto una parte superiore che rappresenta il sole sopra l'orizzonte ed una inferiore con una serie di tratti che indicano le bandiere che sventolano appesa a un pennone, ma che in questo caso suggerisce l'idea che i raggi del sole si diffondono e scendono sulla terra, riscaldare la terra. E dunque lo Yang corrisponde al versante soleggiato di una collina e suggerisce l'idea di chiaro, luminoso, caldo, dinamico, esterno. È espressione delle qualità del cielo, la luce, il calore del sole, il tempo ritmato dai cicli solari, il dinamismo. Dalla reciproca interazione di Yin e Yang origina ogni fenomeno vitale.